Allora, introduco brevemente la prima speaker di oggi pomeriggio, che è la professoressa Cecilia Nobili. La professoressa Nobili insegna lingua e letteratura greca all'Università degli Studi di Bergamo e si è formata prevalentemente a Milano, anche un breve periodo a Londra, ed è quella che possiamo definire un'esperta dell'inno numerico ad Hermes. Grazie. Tuttavia, i suoi interessi spaziano moltissimo. Ha lavorato anche sulla poesia arcaica, poesia esametrica, sulla poesia lirica, a cui ha dedicato anche recenti monografie, l'ultima delle quali è su Alceo. E oggi però, per il nostro onore, presenterà su un argomento riveduto all'inno numerico ad Hermes, su mia richiesta. Io ho chiesto proprio con me i cantanti, un pezzo speciale, che la sua aggiuntazione è di giocare con la musica, l'inno numerico a Hermes, tramito e simposio. Prego, la parola. Grazie, grazie Laura. Ringrazio moltissimo la professoressa Laura Mastetti per avermi invitato qua. È un grande piacere per me, non soltanto perché mi dà occasione di tornare a Napoli dopo molto tempo, ma anche perché mi dà occasione di tornare anche sull'inno numerico ad Hermes, che appunto è un mio interesse di ricerca da lungo tempo. e mi sentite? Perché questo è un po' valerino, diciamo, non sta... Se si sente... Se si sente... Emanuale... Ah, ecco, quindi mi era sfuggita quella... Sì, però forse è meglio da sotto, no? Vabbè, a me se si sente... Grazie, grazie mille. Ecco, dicevo l'inno numerico a Hermes, che è ed è stato il mio interesse di ricerca per lungo tempo, e mi fa molto piacere poterci tornare su oggi, soprattutto in compagnia di due esperti che sono molto curiosa di ascoltare perché, insomma, veramente il loro approccio è per me molto stimolante e quindi credo che imparerò molto da questa giornata, quindi veramente grazie Laura di avermi dato l'opportunità di essere qua e di potermi confrontare con loro. Oggi, diciamo, vorrei appunto approcciare questo testo, soprattutto appunto, vista diciamo un po' anche la chiave musicale che ha l'intera giornata, parlando di questo oggetto che è appunto la lira di Hermes e vedremo appunto, come dice il titolo appunto del mio intervento, giocare con la musica perché vedremo appunto come questa lira, che anzi originariamente è una tartaruga, da giocattolo diventi uno strumento musicale. Quindi questo elemento del gioco lo prenderò in considerazione sia dal punto di vista materiale, quindi dell'oggetto, del giocattolo, sia dal punto di vista invece immateriale, nel senso del gioco di parole, del gioco simposiale, della musica, del canto come gioco. Allora, Hermes, so che appunto state, diciamo, vi state occupando di questo testo, quindi lo conoscete già abbastanza bene, la trama, insomma, quindi non ci tornerò su perché appunto so che ne avete già letto insieme una parte, quindi insomma siete già esperti, insomma, anche voi. Comunque, quindi, come sapete benissimo, in questo testo Hermes ci viene presentato come un bambino, è un neonato con dei poteri eccezionali, nel senso che appena nato compie due imprese assolutamente straordinarie, soprattutto per un neonato, che sono appunto la costruzione e l'invenzione della lira, e poi il furto delle banche di Apollo. Hermes è un neonato, ha un giorno di vita, compie queste imprese eccezionali, ma nel corso del componimento si insiste periodicamente sul fatto che lui effettivamente sia un bambino. Questo, diciamo, è una sorta anche di paravento, nel senso che Hermes compie delle azioni in realtà da adulto, ma quando gli fa comodo si ripara dietro questo paravento, diciamo, della sua essere un neonato. Così si ribadisce in più passi che lui, quando è nella grotta di sua mamma Maya, sta dentro una culla. Da questo punto di vista sono anche interessanti i confronti, anche con l'iconografia, ecco, di questo Hermes nella culla, proprio come un neonato. Si dice, lo vedete, qua siamo ai versi 150-152, qua siamo quando ritorna nella grotta. Nella grotta, per far finta di niente, dopo aver rubato le vacche, per far finta di niente, si mette nella culla come un neonato innocente, vedete, Technon Nepion, che gioca con la copertina su questo verbo assuro, utilizzato qui poi ritorneremo, e insieme a sé dentro la culla tiene la tartaruga, ossia la cetra, come il giocattolo, proprio che il bambino tiene nella culla per fargli compagnia. Più tardi si dice anche che, appunto, gli interessano quelle cose tipiche del neonato, il bagnetto, il sonno, il latte della mamma. Appunto, vi dicevo, si ripara dietro questo paravento quando Apollo va da lui, diciamo, accusandolo di aver compiuto questo furto, e dice, ma figuriamoci, ho forse l'aspetto di un robusto ladro di buoi, io non mi occupo di queste cose, sono un neonato e non faccio altro che dormire, suggerire il latte di mia mamma, avere le spalle coperte e l'acqua calda del bagno. Ecco, quindi, insomma, è, appunto, vi dicevo, appunto, si ripara dietro questa scusa. Ecco, queste allusioni, diciamo, all'infanzia di Hermes sono presenti, soprattutto nella prima parte del componimento, per scomparire poi, in seguito, invece, al suo confronto con Apollo. Quindi, dopo che si chiarisce con il fratello, quindi come impone Zeus, e lui, diciamo, tra virgolette, fanno pace, come sapete, appunto, si scambiano, Hermes dona ad Apollo la cetra, e questo stancisce, in qualche modo, finalmente, l'ingresso di Hermes nella comunità degli adulti. Apollo stabilisce quali saranno le sue prerogative, le sue timai, quindi di questo dio, appunto, così, Polytropos, questo dio versatile, a cui Apollo concede anche quest'arte di divinazione minore. E qui, finalmente, Hermes è pronto per entrare nella comunità degli dèi, quindi una sorta di passaggio all'età adulto, che viene, diciamo, incoraggiata e protetta da Apollo, che è il dio puro Trofos, quindi è il dio che educa i fanciulli per eccellenza. Ecco, quindi questa, però, dimensione infantile, che caratterizza, invece, tutta la prima metà del componimento, è associata anche a una dimensione ludica, quindi Hermes, come tutti i bambini, gioca, e il suo giocattolo è, appunto, questa tartaruga che lui, appena nato, incontra nel momento in cui esce fuori di casa, casa che poi ha una grotta, come sapete, su un monte cilene, quindi esce e vede questa animale che pascola placidamente l'erba e lui già intuisce con questa capacità che è la capacità proprio del dio di capire, di vedere già in quello che è un animale, già proietta quello che nella sua mente potrà diventare, ossia un strumento musicale, eccetera, quindi, e si rivolge a questo animale, e quindi lo leggiamo sui versi, perfetto, grazie, mi è anticipato dal 25 al 40, in cui si dice che Hermes fu il primo a produrre una tartaruga canora, a oidon, cilin a oidon, ecco, quindi, fin da subito questi due elementi, la tartaruga e l'elemento musicale, sono fin da subito appostati, perché già Hermes ha chiaro che cosa quell'animale diventerà. Quella gli capitò davanti, presso l'imboccatura dell'antro, mentre brucava l'erba rigogliosa di fronte alla casa, muovendosi lentamente, il figlio di Zeus, vedendola, rise, e subito parlò così, ecco un simbolo favorevole per me, da non disprezzare, simbolo, simbolon, perché è una tartaruga, ma rimanda già a qualcos'altro, questo è il significato del simbolo, un segno che rimanda appunto a un'altra entità, quindi è già un simbolo della ceca appunto, che diventerà. Salve, graziosa danzatrice, compagna del banchetto, sono contento di vederti, ma perché bel giocattolo, calon athur, ma, quindi giocattolo, lo vediamo questo termine, ricorre qui per la prima volta, indossi questo guscio screziato, tu che vivi sui monti, ora ti prendo e ti porto in casa, non ti lascio andare, mi servi, sarai la mia prima vittoria, meglio tornare dentro, ci sono pericoli fuori, da viva saresti una protezione contro i sortilegi funesti, da morta intonerai un canto stupendo. Così dicendo, la prese con entrambe le mani ed entrò in casa, portando il grazioso giocattolo, di nuovo athurma. Ecco, quindi questo animale, perché per ora è ancora un animale vivo, viene denominato con due volte come athurma, giocattolo. Ora, la parola athurma in greco, così come il suo corrispondente verbo athuro, vogliono dire due cose, vogliono dire sia giocattolo o giocare, ma anche, e adesso vediamo un po' l'evoluzione di questo termine nella storia, ma anche suonare, danzare, quindi con un significato canoro, musicale. Questa, diciamo, sfumatura semantica tra l'ambito del giocare e l'ambito del suonare riguarda, ad esempio, anche un altro verbo, che è il verbo paizo, quindi che ugualmente vuol dire sia giocare, sia danzare, ed è comune poi anche a molti video moderni, pensiamo all'inglese play, pensiamo al francese jouet, ecco, quindi questa, ci sono tantissimi studi, insomma, su questa, diciamo, trasposizione semantica tra questi due ambiti, quello del gioco è quello della musica, del canto, anche della danza, ecco. E nel greco, diciamo, affirma, non è forse una parola così usata, ne troviamo, diciamo, alcune occorrenze già nell'etica, ad esempio la più antica è quella nell'Iliade, nel quindicesimo canto, quando si parla di come Apollo, così facilmente, con rapidità, distrugga il grande muro che i greci hanno costruito la protezione delle navi che li spazza via, così come le onde del mare, si dice, spazzano via i castelli di sabbia che i bambini costruiscono sulla riva del mare quando giocano e c'è per la prima volta l'impiego del verbo assuro che vuol dire proprio puramente giocare. Lo ritroviamo, ad esempio, anche nel quindicesimo canto dell'Odissea, invece, nelle parole del Porcaro, Eumeo, in cui racconta la propria storia, racconta che quando era bambino era stato rapito dai dei pirati fenici che erano venuti fino alla sua casa fingendosi dei mercanti portando tutta una serie di gingilli affermate appunto dei monili, dei gioielli che attraggono, distraggono e incantano la madre di Eumeo e le altre donne che quindi distratte da questi oggetti lasciano un posto dito il bambino che viene rapito. Ecco, come scrive lo studioso Kid che è autore di un libro dedicato al gioco dice come appunto vede come Asurma abbia diciamo appunto nei testi più antichi questo significato di giocattolo che però include anche tutto quello che reca piacere quindi quegli oggetti che recano piacere, meraviglia, sorpresa e si applica soprattutto al mondo dei bambini, delle donne appunto come qualcosa di futile, vacuo. Quando diciamo entra nella sfera maschile e lo fa invece dal punto di vista con il suo significato traslato di musica, canto oppure appunto suonare in riferimento al verbo. Quindi vediamo ad esempio nella Pitica Quinta di Pindaro come si dica che appunto in occasione delle feste pitiche Apollo si compiaccia proprio in gioia nei confronti delle processioni quindi dei comos che la gente celebra per lui quindi in questo caso appunto è qualcosa che reca piacere ma riferito appunto a una performance musicale e danzata oppure in Bacchini che lo vediamo nel Nonno e Pinicio Asurma Musa Musan è il canto delle muse inteso anche in questo caso come qualcosa che reca piacere gioia e finalmente arriviamo poi ad Alceo invece nel frammento 70 in cui appunto si dice che è riferito diciamo al suono della lira nel simposio che appunto suona per quanti partecipano al simposio quindi il significato musicale poi è quello che troviamo comunemente nel V secolo ad esempio nel passo delle leggi di Platone in cui invece si parla appunto di Atena che si compiace delle danze che le vengono fatte in sonore quindi anche la danza armata e qua c'è appunto il verbo asureini che vuol dire propriamente danzare ecco quindi vediamo questa evoluzione semantica del termine dalla sfera del giocare a quella diciamo dell'oggetto piacevole che reca gioia fino ad arrivare appunto alla cosa che per l'attività che per eccellenza rega gioia che è appunto la musica e il canto nell'inomerico ad Hermes è interessante perché noi troviamo il verbo assuro con entrambi i significati quindi nella prima parte siamo il primo significato è nuovamente nella prima parte del canto con i versi 151-153 che vi ho già menzionato prima dopo che il piccolo torna nella culla e si finge appunto in innocente e dice che appunto stava lì dentro la culla giocando appunto con la coperta esattamente come fa un neonato e quindi c'è il verbo assuro con il significato di giocare in seguito invece dopo il confronto con Apollo è Hermes che spiega diciamo le funzionalità della lira questa lira che gli ha appena donato che Apollo non ha mai visto e quindi è Hermes che non soltanto gli dà una dimostrazione di come si suona e cosa ci si può fare ma anche gli spiega appunto che questa lira reca gioia quando è suonata assuromene quindi in questo caso vediamo invece il verbo assura applicato alla lira unicamente appunto con il significato appunto di suonare ecco e questa evoluzione diciamo nel significato del questo termine ecco è interessante che nell'inno-Dermes ci sia diciamo in entrambe le occorrenze ed è diciamo abbastanza indicativo adesso io non entrerò qui nel merito della datazione dell'inno che ovviamente è un tema diciamo complesso però insomma diciamo che denuncia una sorta di una certa stratificazione ecco io personalmente diciamo credo che l'inno sia un componimento forse di matrice atenese comunque diciamo di epoca classica del qui dell'inizio del quinto secolo diciamo tra il sesto e il quinto secolo e che riflette diciamo anche un tipo di sensibilità soprattutto ad esempio anche nei confronti delle attività artigianali delle tecnai tipiche dell'Atene di quell'epoca non mi soffermo appunto sull'episodio della costruzione della lira perché lo faranno poi altri dopo di me però appunto l'episodio è descritto la costruzione come vedremo è proprio descritta con un linguaggio tipico delle attività artigianali che appunto è in linea insomma a mio parere appunto con una sensibilità che prende piede soprattutto nella nell'Atene del sesto della fine del sesto inizio del quinto secolo avanti Cristo quindi da un lato appunto vediamo l'elemento materiale di questa lira che è un giocattolo ed è contemporaneamente però anche uno strumento musicale quindi è atturma per eccellenza quindi con entrambi i significati e però vediamo vi dicevo la componente ludica anche nella sua dimensione immateriale perché vediamo appunto il canto del dio dio che si cimenta anzi con due canti per dimostrare diciamo come si usa questo strumento il primo subito dopo aver costruito la lira la prova e infatti dice quando ebbe terminato il grazioso giocattolo quindi di nuovo a firma in questo caso riferito non più alla tartaruga ma ormai tartaruga che è diventata ormai una lira lo impugnò e col c e col tretro saggiò le corde a ritmo un suono inaudito risuonò il termine qua è smerdaleo vuol dire terribile perché nessuno mai l'ha sentito fino a questo momento quindi è un suono in qualche modo anche spaventoso il dio intonò un canto suave tentando di improvvisare come fanno i ragazzi nelle feste quando si scambiano scherzi ungenti cantava di Zeus cronide e di Maya dei bei calzari di come un tempo si univano nella stretta d'amore celebrava così la sua stirpe gloriosa ed esaltava le ancelle e lo splendido palazzo della ninfa i tripoli di casa e i numerosi lebedi ecco il primo canto di Hermes è un canto che ricalca quindi l'innumerico a Hermes stesso nel senso che l'inno stesso era iniziato diciamo con il racconto dell'unione di Maya e Zeus da cui appunto nasce Hermes infatti si è parlato anche di una misa e una bim proprio perché appunto qua il cantore diciamo rappresenta il dio il dio Hermes che come canto fondativo diciamo della storia della musica perché è il primo suono il primo canto al suono della lira canta proprio l'innum stesso che il cantore in questo momento sta eseguendo quindi una sovrapposizione metapolitica di Piani ecco questo canto però viene contestualizzato in un ambiente ben preciso che è quello del simposio e infatti si dice intanto il fatto che Hermes esegue questo canto improvvisando ex autoschelies ecco l'improvvisazione è un elemento tipico della performance simposiale in cui ciascun convitato prende la cetra e improvvisa un canto per intrattenere i compagni quindi non si tratta di poeti professionisti che si sono diciamo preparati o che sono stati istruiti in quel senso ma ciascuno improvvisa quindi intanto questo elemento dell'improvvisazione e poi come fanno i ragazzi nelle feste quando si scambiano scherzi pungenti il verbo utilizzato qua è chertomeo chertomeo è il verbo proprio tipico dello scambio giambico lo scambio a volte anche aggressivo di chi è appunto tipico del simposio in cui ci si scambiano spesso insulti anche battute scherzi diciamo per far ridere ecco questo elemento diciamo così giambico rientra anche questo in quella che è la sfera del gioco il simposio infatti è il luogo in cui diciamo il gioco ha largo spazio sia in senso materiale perché il simposio si giocava giochi come il cottabo i dadi erano normali diciamo intrattenimenti da simposio sia il gioco in senso invece verbale immateriale quindi scambio di scherzi di battute per far ridere vediamo due esempi ecco magari si scorre scusa grazie appunto vediamo anche qua l'impiego del verbo paizo proprio a indicare questi scherzi questi giochi sia nella prima olimpica di Pindaro sia in questo frammento di Ione di Ione di Chio beviamo scherziamo così il canto si sparga per tutta la notte ecco quindi questo elemento appunto del gioco inteso come scherzo simposiale e poi vediamo proprio appunto questo così questo scambio di battute in questo frammento ad espoto in Dispettitici e Legie e ci dice occorre quando tra buoni amici ci riuniamo per questo ridere Ghelan scherzare Paizen comportandoci virtuosamente godere della compagnia prendersi in giro Fiorain scopten insultarsi anche così diciamo bonagliamente ecco potrebbe esserci qua anche il verbo cartomeo che rientra appunto in questa serie di scambi di battute ecco vi dicevo quindi un contesto qui chiaramente denotato come simposiale d'altronde vi ricordo le prime parole con cui Ernest si è rivolto alla tartaruga quando la chiama all'inizio appena la vede perché già immagina cosa diventerà dai tos etaire compagna del banchetto con l'utilizzo di questo termine etaire compagna che altro non è che la figura dell'etera la cortigiana che è una figura tipica del simposio anche questo quindi una figura diciamo che nasce in ambito simposiale sempre in quest'epoca diciamo almeno noi ne abbiamo testimonianza ad Atene rientra questi status simbol aristocratici noi sappiamo che il simposio era un'istituzione maschile le uniche donne che vi partecipavano erano appunto donne così potremmo dire tra virgolette di dubbia moralità nel senso appunto cortigiane danzatrici flautiste quindi intrattenitrici del pubblico maschile che partecipava al simposio e anche etere insomma e ecco quindi qua questa tartaruga che è una femmina perché appunto viene descritta come appunto un animale di sesso femminile può partecipare ai simposi proprio perché diventerà appunto una sorta di intrattenitrice una etaire quindi una etera e tra l'altro questo termine ricorre anche quando si parla appunto dell'unione di Zeus e Maia quindi in questo primo canto di Hermes quindi ai versi scusami siamo sempre nel primo canto ecco vedete si dice che Hermes e Maia si univano nella stretta d'amore in questo amore etaireia quindi appunto questo amore quindi anche qua con un termine che rimanda diciamo alla sfera del mondo delle etere delle cortigiane orizzescono anche a un termine diciamo abbastanza spiguito cioè quindi proprio con un'allusione allusione sessuale ecco quindi vediamo questo canto quindi che è un canto di argomento erotico possiamo dire molto vicino appunto ad esempio al genere del jambo insomma noi sappiamo che l'eros anche diciamo l'eros spinto faceva parte diciamo dei campi simposiali quindi trovava posto soprattutto nel jambo ma in realtà non solo insomma costituiva insomma comunque un elemento essenziale della poesia e delle conversazioni anche simposiali pensiamo anche solo al simposio di Platone ecco quindi questo canto di Hermes quindi l'argomento da un lato è un argomento appunto affine a quello degli inni l'unione tra due divinità che genera Hermes stesso dall'altro però rientra ancora una volta quindi nella sfera simposiale non soltanto per il contesto ma anche proprio per l'argomento quindi un canto giambico di argomento erotico e lo stesso in realtà questo contesto simposiale permane anche in quello che è il secondo canto di Hermes perché in conclusione dell'intera vicenda quindi dopo che il Dio ha rubato le bacche di Apollo che i due fratelli si sono confrontati che Zeus ha imposto una pacificazione tra i due appunto come sappiamo Hermes dona al fratello la sua cetra ma prima si esibisce nuovamente davanti a lui il secondo canto secondo canto che anche qua sono diversi da 418 a 433 che Hermes intona ponendosi alla sinistra vedete di Apollo questa è anche questa la posizione tipica dei simposiasti che appunto prevedevano che il convitato a sinistra passasse poi alla sua destra la cetra lo strumento musicale al convitato successivo in modo che questi potesse cominciare a cantare dopo di lui in quella che è appunto la catena simposiale quindi di susseguirsi di improvvisazioni uno dopo l'altro e tra l'altro appunto questo canto appunto si dice che suscita in Apollo un desiderio dolcissimo e quindi anche questo aspetto quindi del desiderio che rimanda ancora una volta a Bufius e Imeros alla sfera erotica tipica anche del banchetto e poi invece quindi vediamo come reagisce Apollo di fronte a questo canto che è un canto definito di nuovo lo vedete al verso 420 smerdaleo quindi nuovamente terrificante terribile non è più completamente nuovo nel senso che Hermes già una volta ha provato il suono della cetra ma è la prima volta che Apollo lo sente perché l'altra volta Apollo non c'era quindi per Apollo sì è nuovo e quindi è nuovamente un canto terribile che atterrisce il suo anzi della lira atterrisce perché appunto Apollo non l'ha mai sentito prima e reagisce vedete dicendo rivolgendosi ad Herme lo chiama macellaio perché Hermes gli ha ucciso tre delle sue vacche quindi macellaio faccendiere instancabile Daitos e taire compagno di mensa quindi in questo caso a diventare compagno di mensa compagno del banchetto non è più la cetra ma è Hermes stesso quindi vediamo la stessa espressione che ricorreva all'inizio del componimento e adesso alla fine e che incornicia quindi in questa sorta di cornice simposiale possiamo dire tutta la vicenda d'altronde anche l'elemento il nucleo centrale di tutto l'episodio che è l'istituzione del sacrificio adesso io qua non sono entrata nel merito ma anche lì insomma anche quell'episodio è il tessuto diciamo di elementi che rimandano alla sfera simposiale del banchetto in generale questa Dice che Hermes celebra appunto in onore dei dodici dei ecco e e anche qua appunto Apollo ribadisce la novità di questo canto dice è nuova infatti la musica straordinaria in questo caso Taumazien Teodo sono certo che non la conosce nessun uomo né alcuno degli dei che abitano le case dell'Olimpo all'infuori di te purfante figlio di Zeus e Maria che è che arte è questa che consola affanni infiniti come la si pratica vedo bene che conduce a tutti e tre gli obiettivi la gioia l'amore e il dolce sonno anch'io sull'Olimpo sono compagno delle muse a cui è cara la danza il luminoso percorso del canto la musica fiorente e il suono fascinoso dei flauti ma finora non ho mai apprezzato niente in pari misura fra i pezzi eseguiti di bravura fra i pezzi di bravura eseguiti dai giovani nei banchetti ecco ancora una volta Apollo paragona questo canto a questo secondo canto a i pezzi eseguiti a simposio ora questo secondo canto non ho letto il passo è un canto diciamo di argomento teogonico ancora una volta così come il primo narrava dell'unione di Zeus e di Maia per far nascere Hermes qua si parla anche qua come gli dèi nacquero quindi dell'origine degli dèi e la prima divinità ricordata dal canto era Mnemosyne madre delle muse quindi anche qui un'altra nascita divina cioè la nascita delle muse da Mnemosyne così come Hermes nasceva da Zeus e Maia ecco anche qua quindi anche questo secondo canto ha un valore fondativo quindi si parla della nascita delle idee della poesia della musica addirittura delle muse e anche questo secondo canto presenta diciamo una sorta di meta letterarietà perché è presentato vedete l'albergo sopra Amboladen che ha la stessa diciamo radice del termine Anabolè Anaballo che è il proemio quindi l'inizio il proemio così come gli erano il proemio stesso anche in questo caso quindi un canto di argomento diciamo teogonico sull'origine degli dèi sulla loro nascita ma contestualizzato in contesto simposiale come dice alla fine Apollo non ho mai udito un canto del genere fra i pezzi eseguiti dai giovani a simposio e tra l'altro si dice anche quali sono gli obiettivi a cui questo canto deve tendere che sono la gioia l'euflusione ecco l'euflusione è un elemento essenziale nel simposio lo vediamo anche nella famosa legia prima di Senofano in cui appunto si dice quale deve essere l'atmosfera ideale del simposio ecco la gioia è la gioia intesa come una gioia appunto che dà pace rilassatezza possiamo dire ecco un elemento essenziale di simposio così come l'eros vedete euflusione cae erota quindi la gioia l'amore e il dolce sonno ecco anche il sonno quindi rientra tra quelle attività poi con cui il simposio in genere si conclude pensiamo anche qua in questo caso al simposio palatonico ecco quindi ancora una volta quindi questo canto mira a quegli stessi obiettivi che sono gli obiettivi a cui tende l'atmosfera simposiale e poi consola da affanni infiniti anche qua vedete che arte è questa che consola da affanni infiniti ecco in genere l'elemento che più di tutti consola dagli affanni che troviamo ricorrentemente nei poeti simposiali è il vino è il vino che porta all'oblio è il vino che fa dimenticare i problemi le pene i dolori e in questo caso invece vediamo che è la musica quindi lo strumento musicale inventato da Hermes ecco quindi per concludere insomma vediamo come questa dimensione simposiale che in qualche modo circonda e in qualche modo giustifica entrambi i canti di Hermes si inserisce più in generale in questa dimensione ludica che l'inno ci trasmette dove il gioco è protagonista come vi dicevo sia dal punto di vista materiale come giocattolo perché appunto la lira è aturma per eccellenza sia giocattolo sia strumento musicale con quella appunto oscillazione semantica che è il termine aturma e il verbo aturo recano con sé e poi vediamo il gioco nella sua dimensione immateriale il gioco immateriale il gioco verbale il gioco del canto della poesia soprattutto la poesia giambica che è un elemento essenziale appunto del simposio e dell'atmosfera appunto di gioia così di leggerezza possiamo dire che il simposio recluta in sé con questo concludo non so se ci sono qualche domanda insomma ben volentieri e lascio la parola appunto adesso alla nostra moderatrice e agli ospiti che ci seguono quindi grazie ci sono domande vedo ci sono domande su quello che ha portato la professoressa intanto io ti ringrazio Cecilia per questa bellissima presentazione secondo me ha fatto vedere molto bene come il termine afferma sia abbastanza ambigo da poter essere risinficato noi vediamo in questo inno delle le interpretazioni che sono fatte ad esempio che sia un po' una specie di iniziazione cioè di crescita di Ernest che passa da bambino quindi quando il bambino vuol dire giocato per quando è adulto invece vuol dire suonare portare il video quindi io ho trovato molto interessante e grazie anche per il riferimento alla circolarità è una cosa che modestamente apprezzo sempre e nel caso in cui ci siano domande lascio la parola al pubblico altrimenti professoressa donofrio può venire andiamo stiamo registrando piacere di conoscerti piacere piacere anche un mio complicato una domanda una domanda semplice perché interessa molto come dire la anche la nascita di quest'inno come giustamente ricordato con precisione non si può dire però anche tu pensi cioè tu che lo hai studiato non anche tu no beh io come altri voglio dire io imparo che possa essere nato ad Atene allora riascoltandoti dopo tanti anni da mie lucubrazioni sull'altare dei dodici dei e soprattutto quell'ingresso della Gorà che si chiama poi le Erme giustamente e allora mi è venuto il me cioè la domanda è abbiamo degli elementi che semplicemente io non conosco perché non ho studiato che rinvino con una certa sicurezza tra virgolette ad Atene piuttosto che ad altri contesti a me piacerebbe perché a questo punto riascoltandoti dopo tanti anni di lucubrazioni sull'argomento mi sembra di poter dire che l'enorme come dire lavoro di topografia sacra messo in atto per la rifondazione delle panatene con la creazione dell'altare tardo arcaico di Ermes è stato riconosciuto da Osanna e devo dire secondo me con assoluta ragione piuttosto che un afrodite che non ha un motivo particolare perché quello è il passaggio che tra l'altro è il passaggio che si incunea proprio sul letto di un fiume che era un torrente che si inondava creava un sacco di problemi proprio ai cortei alle cose perché c'erano a parlamento quindi si costruisce l'altare tardo arcaico contemporaneamente si fonda l'altare dei dodici dei mi viene in mente che effettivamente come dire un contesto allora è vero che tu se tiene uno in qualche modo potrebbe essere accusato di forzare il quadro però nello stesso tempo mi sembra molto persuasivo questo lavoro di tessitura intorno ad Ernest e di un ruolo che è politico oltre che ovviamente oltre che sacrale perché si mettono insieme dici dei ed Ernest fa il suo lavoro di go between tra tutto perdonatemi grazie ovviamente il tema è complesso allora io sono convinta che tutti questi elementi questi che hai citato tu dal punto di vista cultuale effettivamente non trovino in altra località una simile coincidenza ecco sono tanti elementi insieme c'è da dire che allora Ernest è anche una divinità anomala perché in onore di Ernest noi non abbiamo notizie di grandi festival così come per le altre divinità quindi se un inno ad Apollo ci viene scontato collocarlo in uno delle grandi festival in onore di Apollo del fine ma insomma un po' in ogni località per Ernest è più difficile diciamo le uniche festività nel mondo greco diciamo un po' più attestate in onore di Ernest sono quelle su molte cilene dove si celebravano anche degli agoni sportivi infatti c'è si colloca anche la performance di questo inno appunto in questi agoni sportivi a cilene ora abbiamo la notizia di agoni sportivi non di agoni musicali ecco il culto di Ernest è un culto diciamo più privato potremmo dire appunto tutte queste Ernest privato ma anche politico ecco c'è i nonni mi dici sì 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 no no è vero no no questo è un aspetto che non avevo preso in considerazione sì 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 sinceramente la mia idea sarebbe non bisogna cercare un ruolo allora questo è il dio che bisogna essere eh sì 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 appunto le Erme erano a ogni angolo a ogni crociclo che c'è quindi erano una realtà quotidiana per noi testimoniata ad Atene soprattutto il culto di Ermes ad Atene effettivamente anche questo culto di queste Erme personali a cui si facevano offerte allora e poi devo dire appunto dal punto di vista adesso quindi al di là appunto di questi spunti di carattere archeologico che secondo me appunto non c'è altra località come dici tu in cui il culto di l'antare di Ermes è associato a quello dei 12 Dei insomma quindi questi elementi insieme e poi appunto tanti elementi invece più di sensibilità che rimandano a una realtà tenese quindi questa attenzione alle Tecnai che appunto a me rimanda molto al mondo socratico platonico appunto di rivalutazione dell'artigianato ecco che vediamo appunto ad Atene l'episodio diciamo quello appunto potremmo dire del giudizio in cui Apollo e Ermes davanti a Zeus c'è l'accusa c'è la difesa è veramente il tribunale ecco potremmo essere veramente anche qua un esempio peraltro con anche strumenti diciamo di rettore insomma effettivamente che rimandano alla ritorca giudiziaria veramente in maniera molto funtuale come scusano sì certo secondo me sì ecco poi anche qui non voglio forzare troppo però secondo me la componente di Atene sì 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 secondo me sì insomma questo testo no ma anch'io ti ringrazio veramente perché perché effettivamente non c'è un consenso ecco da parte degli studiosi su questo ecco quindi invece mi conforta sapere che anche tu sei della stessa opinione questa biancateniese appunto anche a me persuade molto grazie grazie ci sono altre osservazioni domande altrimenti possiamo allora ringraziamo di nuovo la nostra ringraziamo di nuovo la professoressa Nobili per questa bellissima presentazione grazie mille grazie ok ok ed ora passo la parola a Marco Sciascia si è formato come artigiano e oraco a partire dal 1910 no sono io Ernest è vero 189 stavo anche leggendo e si è specializzato nella tecnica della grandazione brusca ma poi più avanti dal 2005 circa si è invece avvicinato al mondo della ripostruzione musicale e quindi ha collaborato a diversi progetti in cui si è occupato della ricostruzione di una grande varietà di strumenti musicali molto antichi che spaziano da esemplari di Silver Pipes provati a Ur nel terzo millennio anticristo esempli Calami Egizi pure della diciottesima di Astia e naturalmente anche aerofoni greci e romani si occupa naturalmente anche di lire e barbito e oggi proprio a questo proposto ci parlerà di ipotesi ripostitiva di una lira classica greca ci ha portato anche qui una serie di oggetti per toccare con mano ok ok la parola grazie la parola e scorrere il powerpoint sì certo mi dici tu quando devo andare ok volevo iniziare questa breve di esamina tecnica sulla lira prendendo in prestito due piantine geografiche andiamo con la prima esatto due piantine geografiche sono stati tratte dagli studi di di john franklin dell'università del vermont e volevo farvi notare perché qui siamo ad esempio siamo nel periodo del bronzo e vediamo la lira come era messa su tutto il territorio che più o meno ci interessa e era già presente si legge poco ma era già presente dal terzo millennio ad esempio nella zona centrale della palestina ma anche e soprattutto su tutta tutta l'area dei due fiumi di più ad est ed ancora scendendo a sud lungo il grande fiume africano infatti vediamo lì siamo intorno al 1900 poi siamo poi sotto quella di Tassicalia che dice sì abbiamo nel 2005 siamo proprio intorno alla diciottesima dinastia anche nella seconda slide arriviamo nell'età del ferro e notiamo la stessa apertura su tutto il territorio e questo era così per farvi vedere un po' dall'alto dove sono state trovate tracce sia etnografiche sia di reperti mi viene in mente velocemente ur con le tre lire in legno di argento che sono state trovate all'inizio del secolo scorso sono il 2500 avanti cristo e sono state scavate all'archeologo leonard bulli e sono conservate al british sono tre lire grandissime e hanno degli attributi molto simili con le lire più recenti del quinto sesto che adesso noi andremo a analizzare per rimanere nell'ambito della chemis della lira che ci interessa a noi oggi in parte e queste erano un'arrange un'fugace occhiata del panorama visto dall'alto ma scendendo piano piano tornando con i piedi a terra verso i confini culturali che ci interessano vorrei farvi atterrare qui qui siamo a Delphi nei primi decenni di fronte a una chi quindi dal macro arriviamo al micro ma nel micro ritroviamo il macro c'è il diopero l'obbligo raffigurato con tutti i suoi attributi e con in mano una case la case quindi è una lina avente un strumento musicale in genere avente come cassa armonica un carapace di tartare quindi la chelis nella chi e qui ci torna in aiuto il mitico Omero che mette nelle mani del dispettoso Hermes una testugine quella testugine che ha in mano il quindi quella tartaruga che Hermes per primo fece cantare ok più o meno in greci di sempre un po' lei direga quindi fece cantare andiamo a quella dopo tagliati nella giusta misura stelle di canna l'infisse nel buscio della tartaruga per sorrandola per sorrandola ok quindi qui stiamo parlando dei due bracci laterali che in questo caso lui chiama steve di canna a rundo quindi è una canna rundo totax perché noi nel nostro mondo musicale facciamo una grande differenza tra fragmites australis che ci serviva per come ci descrive per costruire le ance degli aurostrastici greci ma in questo caso non è l'aurofragmites ma proprio a rundo quindi canna ed è una canna robusta tanta che noi la usiamo per tenere come sostegno delle ghiante le nostre orti per i pomodori quindi è una canna seria che in questo caso viene infissa nel nel buscio della tartaruga perforando nel corso molto interessante questa cosa perché io mi sono trovato molto in difficoltà perché questa perforazione sui carapaci che ci sono per venduti io non ho mai visto ci sono mille no proprio dire sono moltissimi fori che servivano ad altro ma due bei fori dove poter inserire questi bracci laterali io non li ho mai visti e quindi qui troviamo c'è questo da dire unica cosa io scavo un po' in caravace per accuggiare e dare una posizione in modo che i bracci non vadano tanto per più che altro per centrare all'inizio la posizione grazie e andiamo avanti che ci poi con la sua accortezza tese tutto intorno una pelle di due si so due bracci e li congiunse con una traversa quindi con molta accortezza perché ci vuole un po' di pazienza come tendere una pelle su una tavola noi sono due studenti separati che si insieme tese una pelle di due una pelle si fa che girare quella più spessa la pelle di due e le altre sono tutte pelle di capo io secondo me è errata questa cosa perché la pelle di due innanzitutto è uno spessore immaginabile sicuramente ci si possono fare tante altre cose ma normalmente da sopra non per costruire un piano armonico di 20 centimetri di piatta e ad ogni modo sempre che ci si riesca dopo un po' la cassa armonica la tartarola stessa in in prode perché la tartaruga è costruito da tanti scudi ossei che da molto si allentano fra di loro e quindi rimane come uno strumento un po' effino di poca non durevole per tempo e quindi io metterei pelle di capra sicuramente abbiamo molte misure molte molta scelta nell'astinare la pelle e trovare questo fissore idoneo fissò due bracci quei due bracci come li fissò e li congiunse con una traversa la traversa è la parte superiore che noi chiamiamo anche gioco invece i due bracci laterali e i bichis laterali sì perfetto peccas peccas allora i due bracci laterali non c'è arrivato purtroppo non c'è arrivato quasi nulla ne abbiamo solamente una coppia trovata in una bomba poco a morte del fileo e oggi è conservata a 12 nella collezione e sono anche esposti e sono piccolissimi saranno 45 totali noi siamo abituati a fare strumenti un po' aversa saranno come questa viranilattica o a dimensione della viranilattica e si so con due bracci e li congiunse con una traversa la traversa è la parte superiore o gioco che tiene insieme i due bracci e che non chiamate il zico e tiene insieme i due bracci ed è il punto uno dei due punti di ancoraggio delle corde vediamo che cosa c'è dopo e tese sette corde di budello di pedora in armonia fra loro e quando le costruite col plettro ne saggiò le corde una poco l'altra quindi come vengono tese queste due corde vengono tese nella parte superiore sulla traversa come abbiamo due possibilità una nel periodo classico una sono i collo pastoncini voglio qualcosa passare come questi mettere loro per esatto sono questi pastoncini che collo significa effettivamente leva che fanno da leva la traversa e il giuro e quindi fanno da leva sulla traversa e tendono tirano la porta finché non si arriva a desiderare e e c'è altro che dovrebbe costruita quando io insaggerò le porte col prete che parleremo più tardi ecco questi sono i collo pastoncini greci non ne hanno nemmeno uno ce ne abbiamo noi due in magna all'ocra e insieme ai collo carabaci qui vediamo i due collo pastoncini io ho ricostruito come stanno girando tardi voi sono in colmo e oltre a loro ci sono anche qui dei frammenti degli avvenimenti presumo che erano sui laggi della travezza esatto il secondo metodo non più antico ma probabilmente più semplice ma probabilmente non più semplice nella portata nella velocità di esecuzione ovviamente non rappresentare il promesso e questo qui non so che nome abbia ho chiesto a Chiara Vittorio Isatoska riuscito e mi hanno detto che possiamo sempre gammare il promesso ma una versione più semplice quindi quelli sono questi sono sulla tomba del toffatore a Pestum e nella lastra nortida della tomba del toffatore a Pestum è un affettante ha un barbidos che è una lira una keredis perché la vediamo lì sotto il braccio c'è la tartaruga bianca anche quella è una cosa interessante ne so chiesto ma perché è bianca e la divinta e invece dopo la buccia lunghia quello che voi vedete sulla tartaruga il colore della tartaruga non è solamente la parte del corno sotto c'è l'osso che è bianchissimo quindi molto probabilmente veniva spuntata non sempre perché sulla chiedis aveva detto la bollo ci sono i segni ma probabilmente ne aspettava perché leggendo l'igno veniva usato veniva usato quei frammenti anche come decorazioni nell'ultima quindi c'era anche un gran commercio di queste tartarughe di queste che si è dovuto greche in giro per il mediterraneo per cui c'erano molti usi e quella bianca mi dà vita anche nella mia supposizione perché avendola fra le mani una che non hanno superato l'inverno a casa ho visto che si sfogliava da solare e mi rimaneva il carabace a bianco quindi abbiamo un bambito siamo in un banchetto due amanti stanno suonando sorseggiando le siglie e questo bambito l'olio strumento eccolo abbiamo dietro il carabace le belle di capra corte di pepura se vuoi lo fate passare corte l'antica tecnica di tensione per affrontare lo strumento e che cosa abbiamo dopo la lastra del suo totale dove c'è tutto quello che trovi con il sorriso c'è chi gioca al corto apposta anche loro su col piatto nell'intento di lanciare la goccia c'è chi chiede vino c'è chi amoreggia c'è chi suono e questa era la atmosfera come veniva serrata la corda di pepura nella parte sotto sopra abbiamo visto dove si andava sotto c'era una struttura spesso in ferro ma anche in pronto questi particolari io li ho presi sempre a best nei magazzini ora sono state anche esposte questi carabaci ora no perché se per il museo si è in fase di chiuso in fase di riposti e li stanno sistemando tutte le sale e ad ogni modo questo programma dalla tomba 341 dove abbiamo il carabace quasi per intero alcuni chioni che servivano a tenere all'interno i bracci nella tartaruga e la cordiera che è questa parte di ferro che si inseriva sotto lo potete vedere sulle linee che stanno girando potete vedere la parte sotto sia sulla luna che sul bar Pilos c'è questa cordiera dove venivano annotati tutti i fili che portano e c'è un altro elemento che puoi andare con l'altro qui ad esempio ho preso la cordiera e l'ho inserita proprio nei punti dove era all'inizio e quindi perdono perfettamente i due fori e questa scarabacia visto al contrario quindi immaginatevi il piano armonico sul foglio sotto e la parte della cordiera orizzontale quindi venivano annotate le porte e andavano su verso la traversa per essere accortate prossima vista da quest'altro lato a me io sono romantico a me piace pensare che quel rumo sulla cordiera sia analizzato in nascolto e oggi a tutti io si rifergo anche del materiale reale secondo me perché veramente si vede che non lo so noi diciamo arroccinato sono i figli che si sono strappati nel tempo e sono ritornati e sono rimasti ritornati alla cordiera al cordototico andiamo vediamo cosa c'è e c'è un'altra cosa che non che non si è scordato un fattore importante è il punto questa parte qui io ricostruisco proprio a ponte ma la ricostruisco in base a video oggi non c'è probabilmente è adegno e non è arrivato a non ce l'abbiamo solo sulle live perché poi non diventano live il nord europe abbiamo frammenti di ponti che sono più o meno fatti così come un punticello poi per unirlo per interterci e qui sul retro vediamo che ci sono delle ere con dei ponti quasi tutte dal verso nostro non sono almeno zero verso nostri e si vede quella testura che dovrebbe essere il ponte che è alzata le corde e trasmette la vibrazione delle corde anche anarmonico che la penne e quindi che ci fa la amplificazione perché diciamo ma secondo me sono due strumenti separati perché c'è l'arco sonoro che è il primo cordogono che l'uomo ha inventato ha preso un ramo o forse aveva anche l'arco per andare a caccia che l'ha appoggiato mattino ma se tu batti la corda dell'arco e quella mette in suono se poi tutto lo metti vicino alla bocca la bocca amplifica il suono infatti nascita ancora quello strumento un strumento monoporta un arco sonoro e quindi il primo strumento potrebbe essere parte della vita potrebbe essere questo quindi io ho pensato come lo fermo sotto uno strumento fino a se stesso sotto questo tacco come nei CCC nel modernità c'è un tacco alla fine dove convoi le parti laterali della struttura della cassa armonica a rinforzo dove si tenono incollate e così io pure ho messo un tacco di vigno dove i due bracci si fermano dove sotto ci sono due forni dove io insedisco la cordiera e monto le corde e questo è lo strumento è lo strumento sotto e allora ci metto un amplificatore un amplificatore è un tappuro è un tappuro è un caravace con la pelle che amplifica il suono del è messo dalle corde in percora poterlo dire percora grazie percui no in realtà lo dico esagerando sono due strumenti ma questo è per dire che non voglio far ricadere tutta l'attenzione delle porte sul caravace questa è una mia odio perché darete le intonazioni che variano a secondo dell'umidità se la perde c'è 90% di là si affroscia e cade tutta l'intonazione e già cade perché il ponte si abbassa e dice che ridotto figuriamoci se il caravace doveva avere un'influenza maggiore su diversi domenici è più semplice fare due strumenti le porte restano agganciate sotto passano attraverso il caravace ma vanno a finire sul legno dei caracci l'ho rifatto anche qui su questa migra niente questa è un'altra soluzione ma non la abbiamo non molto filologica nel periodo che stiamo affrontando però perché i bracci rispondono fine e comunque deve stare con l'insieme che ci rimane i plettri i plettri per i plettri abbiamo dei pezzi un po' antecedenti il settimo portavo secolo e quelli che io studiato sono tutti di area centro romana diciamo più che altro quindi siamo in un territorio etrusco ce ne sono almeno tre a Villa Giulia scusatemi al museo nazionale dei momenti musicali anzi collezione di Orga di cui io ho fatto una ricostruzione che sta girando e quindi immaginate questo proletto ce li attesco con il quale si suona ora viva e ve lo farà vedere poi il rosa in mezzo e poi ne abbiamo altri si può girare ecco questo è sempre la Villa Giulia sono frammenti e manca la parte dove che veniva usata proprio per spiegare le porte in questo caso andiamo avanti ce ne sono altri molto interessanti queste le foglie d'oro ed è molto interessante quello che c'è scritto sotto e è molto interessante leggere da Scandini che sono musicali nei nostri musei qui ad esempio c'è scritto cucchiai cucchiai o clitro la cosa bella è che ultimamente anche anche qui a Mann è stato scompare tanti cucchiai tanti cucchiai di nostro sono scompare stanno a panello diversi clienti questo grazie anche alla dottoressa morisco che si occupa della sezione pronti e ossi su Alman grazie anche hanno fatto un generaggio un progetto proprio con con cremona e con stavano per scuola per e quindi ne uscirà qualcosa sicuramente di interessante ci saranno molti pletri da torpeio e quindi se ci stanno i pletri ci dovrà essere anche qualche cosa di assoluto di subito io concluderei qui ma sì mi lasceranno queste due slide tutto quello che abbiamo detto fino adesso nel senso come venivano fatte portate fermate le porte e allora ci sono ancora un giro nella tradizione purale tutta fegana qui vediamo una in etiopia come l'antico sistema in questo dopo questa in lupia il sabra questo è un bar se vogliamo perché è un strumento giga ma anche più di bar il contrapasso se vogliamo considerare e sopra le stanghette i collo e probabilmente quello è un elettro e non so mi sono scordato dire prima nella virus di avuto c'è una fascia ma potrebbe anche essere questo sì quella fascia che tiene il braccio sinistro e il braccio della destra della lira si chiama terra e si ha mantenere la mano ferma dietro che la mano deve muoversi sulle corde che in questo momento non si sostiene come veniva sostenuto questo dato lo sarebbe grazie ci sono domande per nato sosso siciliano ti sentiamo quindi secondo me la costruzione della lira non è giusta quindi il cantore non avete questo c'è soprattutto per qualche parte del cuore di ma sì secondo me ci sono diverse mancanze c'è qualche imprecisione È come un poeta che descrive uno strumento. Sì, sì, che magari ha visto, ma che lo sapevo. Esatto, come tante se ne vedono anche come il pittore, tante volte si vede che ci sono delle imperfezioni, raramente, ma ci sono delle imperfezioni come mettere corde, tante volte sono degli aiuti, tante volte sono... Ma qui dici perché ha fatto questo? E così può essere anche nella descrizione. No, no, questo è interessante perché appunto il pezzo da un lato presenta un linguaggio molto dettagliato proprio dal punto di vista di termini apparentemente molto tecnici degli linguaggi anticanali, amare, maschiare, anche per una terminologia data dal punto della scrittura, che però evidentemente il cantore è un padrone, tecnicamente se non si scava al Carapace. Cioè se si fanno dei fori come questa qui sarebbe bello, ma io i fori non li ho visti sui reperti. Quindi va scavato un po' perché bisogna abbassarli i bracci perché se no avviene la parte. Bene, no, grazie. Rosa. No, mi dice che se tu fuori e mi consiglio ferare due scavature, come tu puoi, se vuoi, perché lavorare bene in tutta città... Due scavature dei piedi. ah beh questo me lo dovete dire più voi che analizzate il testo io tecnicamente avrebbe bisogno di affossarmi all'interno del caraballo ah no, è interessante c'è anche quella variante lì che dice attraverso la c'è anche una questione testuale lì da l'altra e comunque combacia molto con la parte dove escono i piedi perché il caraballo è sempre messo a testa in giù e quindi sotto c'è la testa la zona delle mani non ci serve anzi spesso quegli scudi venivano secati, torti, mancano sopra invece si allarga un pochettino anche nel iconografia si vede proprio dove si allarga teoricamente il caraballo per fare spazio all'uscita dei piedi dell'animale ma non è sempre sufficiente secondo me va scavato e basta al brodo ecco foro proprio foro no ma non si parliamo delle parole ah bene, è ovvio, è il testo nella tradizione per esempio come sarebbe io sono qui di vista perché come possiamo raggiungere il solito si è presentato nel nostro mio cuore in maniera così un po' un po' più rapido però è bello è solo un po' di legato molto interessante grazie molto bello questa cosa che hai detto il primo strumento che poteva anche essere un arco cioè un arco che uno tende ci sono sicuro perché c'è questo probabilmente lo conoscerai un famoso passo dell'odissea su cui odisse nel momento in cui fa la famosa gara con l'arco in cui nessuno riusciva a tendere questo arco tende l'arco come un aedo cioè c'è proprio un paragone musicale sull'arco perché che la parola poetica sia paragonata a una freccia è una cosa molto comune le parole alate sono come delle frecce però è bello perché ci ho avuto a contare questa metafora quindi mi hai fatto pensare e mi ripeto con questo passo e che te lo volevo dire perché a migliore che si verrebbe sul fondo quando lasci quando sganci l'arco suona eh sì sì anzi quando uno va a caccia vengono messi dei sulla corda dei sì fermi per assorbire il suono per non delle sordine brava va bene altre domande? se le sanno se le sanno se le sanno sono le sordine se le sordine sono per l'Africa o se le sordine sono per l'Africa io ho cesso non è sordine ho cercato solamente in Africa e non vengono suonati con la tecnica che noi vediamo raffigurata nell'iconografia classica greca vengono suonati per terra tenuto con i piedi eh tutta un'altra tecnica per cui cambia la cultura cambiamo usi usi e costumi però lo strumento è quale cambiamo questo dall'Africa dall'Africa non sono andato in giro no non mi sono allontanato dall'Africa è da fare una piccola ricerca sì si vuol dire che l'emozione della lira è una cassa certo certo perché la lira alla fine è uno strumento poetico eh conviviale ma stiamo parlando già qui siamo troppi nel senso che se tutti chiacchierano non è giù l'ultimo non sente il suono della lira e allora si è inventato a parte che il carapace è stato abbandonato su quasi subito io penso che dal terzo secolo nessuno faceva più usava più il carapace e si usava il legno dal legno con legno può fare di tutto e quindi è nata la chitarra cioè questa chitarra bella larga che è grande così grande così e veniva usata la chitarra da concerto quindi è una lira bella grossa e dava più suono e si eseguava cioè cresce la cassa eh sì il principio è il violoncello contrabbasso cioè lì con questa larga più è grande più il suono può essere più le corde possono essere lunghe più il suono può essere diciamo più potente eh sì più amplificato più amplificato poi veniva appunto uno strumentino così che veniva usato all'interno di un momento giocoso dove si mangiava si beveva e possiamo immaginare quello che sentivamo un conto è a teatro eh una lira una chitarra greca posizionata nel punto giusto del teatro dove la musica ti riportava tutto tutti i siti perché stavano ascoltati era studiato tutto bellissima e ehm per per noi no no rimaniamo su queste dimensioni mediamente il diapason ponte eh tuning era cinquanta centimetri su una lira quarantanove cinquanta sul barbitos arriviamo a sessanta due tutte misure ipotetiche prese paragonando tutta l'iconografia che abbastanza combacia abbastanza bene ma quello strumento è importantissimo io non mi ricordo il nome ma è importantissimo perché ultimamente eh stiamo affrontando l'idea del ponte che fa il blues perché quello la fa un suono perché noi siamo abituati lì tutto 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 bello limpido preciso in realtà poteva essere un zong 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 questo verbo che viene usato nell'inno ad Ernest questo tornerebbe bene perché c'è questo quest'ora di cui parlava prima la professoressa con a bese il verbo praticamente si usa nelle battaglie nelle armi quando batte l'arma batte sullo scudo esatto per me le armi che si suonano sopra il caduto in si allora anche in classe mi ho parlato ma questo non è più perché la fa una caverna e allora smetterà ancora bese c'è questa epoca però se fosse così eh non dimentichiamoci questa cosa ci si può giocare e comunque stiamo lavorando su questo su questo bus e dipende molto dal ponte il ponte non ci è arrivato però in Africa c'erano esatto è vero sì allora se non ci sono altre osservazioni eh ringraziamo di nuovo Marco Sfoscia ringraziamo ringrazio 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 ok ok allora invito ora Rosa Fragorapti che è una musicologa e musicista ehm Rosa si è eh ha cominciato ad indagare le idee greche attraverso esperimenti pratici ehm nel 2007 eh inizialmente con il numero dell'Orthian Harmony in Tessalmichi eh si è poi laureata in musicologia a Pavia nel 2013 e si è specializzata nell'arte nella Lira Sette Cove quasi non ho mai pensato di dire in specialità nella Lira Sette Cove cosa meravigliosa dire di qualcuno ottenendo il diploma in Lira al Conservatorio di Nicaia e nel 2023 ha diretto la ah nel 2023 che si rivederà che si rivederà che si rivederà quest'anno si è una scuola di music è una scuola di ricerca e di sperimento tecnico sullo strumento sulla performance degli strumenti antichi e io mi occupo della Lira poi ci stanno pure auleti percussionisti ballerini che fanno ricerca sulla danza sulla sui strumenti anche sul canto insomma è una bellissima situazione è una bella esperienza si ripete anche quest'anno la prima settimana di luglio aspettiamo per il programma sì io per me sarà il terzo anno consecutivo che farò parte di questa bellissima esperienza se qualcuno interessa a viverla sì fatemi sapere così vi metto in contatto con Rosa e oggi ci parlerà di attenzione devo andare su questo secondo qui c'è un incastro suonare la Lira Greca a sette corde ipotesi di tecniche esecutive prego grazie grazie io sono abituata più a stare da quella parte che da questa è strana questa situazione che mi che sto da dalla parte della cattedra comunque e chiedo scusa anche magari per qualche errore italiano perché sono greca sono qua da tanti anni però comunque quando quando parlo il pubblico mi emoziono allora abbiamo parlato del mito abbiamo parlato della nascita insomma dello strumento dalla parte filologica abbiamo poi siamo passati alla parte tecnica della costruzione allora vengo io come musicista e cerco di provarla vedere come si può come si può suonare mettere la mano su questo strumento che può fare perché comunque è un strumento molto importante parlano tanti anche perché oltre a tutte le oltre a tutti tutti i momenti come il simposio che abbiamo detto come i riti di passaggio matrimonio feste festività era anche principalmente l'istrumento di educazione sì west il filologo molto importante dice che uno dei strumenti molto importanti che si vede dall'epoca arcaica fino alla tarda antichità Enri René Marou un altro filologo che ha scritto il libro History of Education in Antiquity ci dice che il carattere dell'educazione nella Grecia era più artistico che scientifico mentre l'arte era musicale prima di diventare letteraria e plastica e secondo Teognide si dice Teognide no? Teognide sì ok poeta lirico da Megara no ancora siamo alla sì la lira la danza e il canto riassumono la vita dell'uomo colto la qualità dunque di ogni libero cittadino la costituiva una buona educazione musicale Platone nelle sue leggi determina in tre anni il tempo ragionevole che ogni ragazzo la ragazza adolescente dal dodicesimo tredicesimo anno della sua vita passava vicino al suo insegnante di lira il chitaristesse chitaristesse dal quale imparava a suonare la lira e l'insegnamento l'educazione era più mimetica l'insegnamento avveniva non tramite le partiture spartite come oggi ma con in forma audiovisiva cioè il chitaristesse eseguiva e lo studente ripeteva aristotele pur in politica sosteneva che l'insegnante dell'educazione musicale non dovrebbe non doveva concentrarsi alla creazione di virtuosi ma di cittadini con buon ethos ciò non vuol dire però che non esistevano professionisti e musicisti molto tecnici però per quanto riguarda l'educazione si dovevano si dovevano concentrarsi sulla creazione dell'ethos piuttosto che diventare un fenomeno virtuosistico allora lo studente iniziava la sua educazione con la lira perché ah potevamo andare avanti ecco l'educazione possiamo anche andare ancora più avanti qua per vedere l'ethos e il bambino che impara perché la lira perché era più la costruzione sua era più semplice uno strumento insomma più meno complessa rispetto ad altri strumenti a corda poi andare avanti come la chitarra la chitarra che Aristotele la chiama tecnicon organon cioè uno strumento disegnato come ha detto con la cassa armonica di legno più grande più decorata produceva un suono più forte quindi era uno strumento professionale 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 ok allora però West sempre dal punto di vista di organologia organologico classifica la famiglia delle lire cioè l'ira non è solo la chelis la famiglia delle lire è classificata così la prima categoria sono le setre occhitarei dove abbiamo la cetra aculla questa qua una formings la chitarra concertistica quella più famosa poi la cetra di tamiri o di traccia che è sempre una cassa di legno o aculla a volte aculla a volte rettangolare e le braccia più piuttosto si scrive che sono di corno voi non lo so se abbiamo i trovamenti di questa citarra qua se sono di corno di animale comunque nella letteratura c'è scritto che erano di corno e poi la cetra italiota che è a forma rettangolare quindi questa è la famiglia delle cetre e poi abbiamo la famiglia della chelis ecco con la tarapace di tartaruga quella la lira e poi il barbitos con le braccia più lunghe che produce un suono più grave l'ha detto prima Marco allora queste queste sono tutte lire diciamo fanno parte della famiglia delle lire anche se la costruzione la forma è diversa il modo di suonarlo dall'iconografia sembra lo stesso perché si parte dalla lira come educazione poi se uno vuole fare il suonatore di chitarra o passare al barbitos comunque i modi sono i modi base base poi le tecniche più complesse magari la chitarra hanno sviluppato tecniche molto complesse visto che facevano le gare musicali ogni quattro anni e quindi dovevano presentare sempre cose più importanti più cioè uno doveva spiegare quello precedente insomma e come possiamo tenerlo abbiamo visto come costruirlo e vediamo come lo possiamo tenere sopra davanti sì sì ora devo devo lasciare il microfono ok spero che mi sentite così allora in tutte le raffigurazioni che abbiamo la tenuta della lira è coerente filostrato il giovane la descrive molto bene nelle sue icone dice il suo piede sinistro appoggiato a terra sostiene la lira che appoggia sulla sua coscia il suo piede destro segna il tempo battendo la terra con il suo sandalo e dalle mani la destra sta fermamente afferrando il plettro presta attenzione alle note ha il gomito teso e il polso piegato verso l'interno mentre la sinistra con le dita dritte per quote le corde anche West nel Ensign Greek Music il suo manuale è precisissimo riguardo la tenuta allo strumento possiamo andare avanti sì sto anche andando per ora non mi fa ok eh no ops penso che così ecco eccola che dice West dice che le lire possono essere suonate suonate stando seduti puoi andare avanti che si vede la sì sì stando seduti in piedi avanti seduti in piedi camminando o ballando e qua si vede bene si vede bene il suonatore teneva lo strumento contro il lato sinistro del corpo con la mano sinistra che arrivava alle corde da un lato attraverso il telamon e la mano destra dall'altro l'attività delle mani era presentata in modo molto coerente dall'epoca minorita le dita della mano sinistra premono o pizzicano ogni singola corda la mano destra percorreva tutte le corde con un plettro il plettro era attaccato con una corda alla base della lira aveva un comodo manico e una corta punta di avorio corno o legno allora le raffigurazioni delle ceramiche e le rappresentazioni delle figure assicurano ogni angolo di visione vediamo le lire da dietro da le tengono sopra le tengono al contrario davanti insomma abbiamo una varietà di di posizioni e ora in questo momento con una copia fedele di una lira fatta da una fedele è più fedele guarda che questa è la più fedele possibile finora che ho suonato quindi una copia fedele da uno costruttore che comunque non è uno che prende il materiale e li mette ma fa un workshop fa ricerca vede i ritrovamenti dalle tombe segue i filologi i musicologi che studiano insomma non che ci danno un sostegno importantissimo nella ricerca e un musicista che se la cava insomma che può mettere le mani e avere un'opinione possiamo tentare di osare anzi di fare delle ipotesi tecniche di performance Allora a me mi ha aiutato moltissimo no solo a me penso a tanti musicisti l'articolo della professoressa Alexandra Vullacchi Vutirà è una musicologa che sta in pensione insegnava all'università Aristotele di Salonico ed era la fondatrice dell'archivio Mythos database dell'iconografia musicale antica e quindi abbiamo il database che ha fatto lei con i collaboratori nel corso di anni e ora possiamo entrare e cercare qualsiasi strumento o momento che ha l'interesse musicale quindi quest'articolo che ha fatto la professoressa ha fatto una catalogazione sistematica di posizioni quindi una determinata posizione tot volte un'altra tot volte quindi abbiamo una un catalogo molto importante è è una bibbia per uno che vuole suonare veramente è un inizio incredibile allora Vutirà distingue i seguenti tipi di posizionamento delle dita e il primo è questo ah non è il tuo aspetta grazie è tuo o no? stai là lo sono attaccato? no allora vediamo questo poi andiamo anche nella prossima ok anche nella prossima poi ritorniamo magari si si vediamo la posizione è che è questa praticamente le dita del palmo sinistro dritte sulle corde e la mano destra che suona completamente vediamo questo si vede? ok si ah grazie quindi vediamo quest'immagine anche la prossima penso che è la stessa ecco vediamo questo pure canta quando ha la testa alta e la bocca aperta canta allora fanno così e io provo appoggio le dita e esce un accordo che cosa faccio con le dita? muto le note che non voglio sentire se vediamo questa posizione quindi se io premo queste corde queste corde non suonano quindi suonano le altre e così costruisco un accordo e qua vediamo che la mano è anche dietro quindi e quindi c'ho una gamma di accordi da sette corde posso fare varie combinazioni di chiusura e costruire un pezzo intero per chi da ritro se ci stanno chi ti ha visto da ritro qua ecco e questa è una posizione poi un'altra categoria è questa vediamo palmo sinistro con il pollice piegato e le altre dritte sulle corde vediamo se ci abbiamo qualcun'altra ecco questo pure si si vede aspetta questo pure questo no anticipiamo forse questo si vede un po' allora io metto due o tre per non far vedere troppe cose però abbiamo una gamma molto grande e il pletro pure lo vediamo che sta in movimento non è che è fermo vediamo nelle altre ci sta qua non si vede e qua nemmeno si vede comunque ci sta il coinvolgimento del pletro e vediamo anche che il pollice sta nella metà della cordiera nostra quindi che può essere può essere dico io provo non lo so non sarà smerdaleo però qualcosina sta passando ok questa è un'altra categoria quindi vedo che c'è il coinvolgimento del pletro e del dito del pollice che può fungere 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 da pedale per un musicino ok poi abbiamo un'altra un'altra posizione andiamo ecco che è pure questa molto rappresentata le dita della mano sinistra soppiegate così a volte il pletro suona come qua andiamo avanti sì qua pure suona qua mi canta pure qua vero non suona magari sta in posizione di pausa si vede anche qui ah vediamo eh sì che sono sì ecco vedi sì 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 anche il ponte il cordotonio eppure nella prossima mi sa che sì sì non si sa se suona magari si sente la voletta quindi se non suona ok siamo in pausa ma se vedo che il pletro funziona può darsi che suona da solo la cosa più facile da fare con il pletro senza la mano sinistra poi che abbiamo ok vediamo questo la mano sinistra un dito o più in questo caso un dito tocca alcune corde cioè proprio evidente senza il pletro qua c'è il pletro esatto ho sentito uno ok qua abbiamo l'indice qua abbiamo il medio qua abbiamo indice e annullare e forse non lo so forse anche il medio che fa qualche cosa forse può essere insieme può dare spese anche non si sa comunque stanno interagendo le due mani e questo è molto importante e questo è fondamentale anche l'uso del terra guardate senza non si può fare niente poi ecco sempre e qua c'è il pletro che sta sopra quindi non lo so se metto qua qualcosa sono abbastanza simile alla ragazza là non lo so non si comunque come? sono più armonici queste sono armonici sì perché non sta qua il pletro sta qua è proprio un dito un dito sta quasi sulla corda non lo so se è l'ultima comunque è un'ipotesi o possiamo ipotizzare un armonico oppure una cosa così è scordatissima poi la cordiamo non mi preoccupare poi che abbiamo? ecco ecco questa è un'altra sì sempre un'altra qua abbiamo pollice e indice molto rappresentata anche come posizione pollice e indice non è questo che abbiamo visto prima abbiamo un'abbondanza di immagini così col pollice e indice indice che tirano una corda dice l'articolo ecco quasi vedete c'è proprio si vede questa questa posizione qua avanti qua ancora più evidente perché rilievo e quindi non è questo come prima anche qua si vede perché è una scena educativa è proprio questo non è questo suono la stessa corda così e così suono un'ottava sotto ok e questa è la posizione e la raffigurazione meno consueta meno che la troviamo di meno insomma due mani senza pletro avremo tre o quattro raffigurazioni massimo nemmeno tre questa è una questa è un'altra che secondo me non è nemmeno è questo qua un armonico più alto comunque viene rappresentato ma molto di meno chi è senza pletro? una epipsale cioè suono con le dita solamente ok sì e il suono è diverso perché il pletro lo rende molto più metallico più forte metallico e potente con le dita diventa più musica da camera intima come situazione e poi una scena che mi piace molto e l'ho messa perché è ora di accordare qua si accorda si vede proprio davanti ecco pure lui ecco lì si scorda sì si perde l'intonazione qua secondo me l'aulos dà il tono dà il tono perché l'aulos è uno strumento stabile diciamo non ha nemmeno la capacità della liria di andare oltre una certa orelia di suono quindi la liria che si deve adattare all'aulos se devono fare sinauria e qua il maestro accorda forse l'allievo il maestro è quello con la barba sì il maestro accorda e l'allievo suona cambiano tono non lo so immagino io faccio pure io sono umana ok allora dobbiamo accordare visto che la pelle con l'umidità soffre come si accorda l'accordatura descritta dai musicologi greci del quarto secolo è costituita da due tetracorti perché la lira ha sette corde due tetracorti cioè quattro corde quello inferiore e quello superiore e quello superiore con un suono in come dire con un suono con una corda condivisa si condividono in comune con un accordo in comune quindi si chiama sionimeno come etacordo allora questo accordo sta in mezzo e quindi come si chiama? mese è il nome dell'accordo in mesi così io partendo da mesi perché come musicista moderna e pianista quindi non ho mai avuto a che fare con corde violini chitarre quindi non ho mai accordato con l'orecchio mi avevo bisogno proprio di un tuner in tutta la mia vita però sicuramente non c'era un tuner quindi non è che voglio rifarmi l'antica e fare la parte di quella che fa tutto quello come l'antichità però vorrei provare come si può accordare perché è anche un fatto di allenamento questo dell'orecchio quindi partendo da intervalli di quarta e quinta intervalli di quarta e quinta sono quelli più puliti più che ti danno la soddisfazione quando li suoni si accorda tutte queste corde prima vi dico i nomi delle corde eccole stanno là ora è la messi e quella in mezzo è mese ok facile poi abbiamo la più lontana da noi che è la nede che vuol dire proprio più lontano da noi e poi l'ipate che è importante quella più vicina la base ipate ok la mia pronuncia è più moderna scusate però sto facendo provo provo allora vicino alla nede e vicino agli upate ci stanno le due paracorde quindi parupate e paranete la terz'ultima come si potrebbe chiamare terza quindi trite e ci rimane la terza corda che di solito si poggia l'indice sopra e l'indice come si dice l'icanos e quindi abbiamo pure i nomi delle corde parto allora da mese selgo un modo in questo momento vorrei scegliere tipo il mixolidio che è una successione uguale di due tetracordi quindi semitono tono tono semitono tono tono quindi abbiamo due tetracordi accortati più o meno uguali di distanza diversa e vede se il mio orecchio che non è tanto allenato riesce a farlo senza tuner allora per alzare l'intonazione devo alzare il colo il colo per abbassare lo devo abbassare quindi la mia mese è questa mese devo scendere una quarta per intonare in base a questo tono la mia epate mese epate è abbastanza buona come quarta ok poi una quarta sopra per fare l'anete mese 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 Ok, ora una quarta sotto, da nite, quindi l'ultima che accordo è la mia partenza per la prossima. Quindi dalla nite devo andare una quinta sotto per fare lì canos, quindi nite, lì canos, lì canos, abbastanza, lì canos. Ora da lì canos una quarta sopra, quindi un gioco di quarte e quinte per fare la paranete. Dichano, scuola, nite, scuola. Basta un movimento un po' più brusco. Potevo anche lasciarlo come rapido. Sì, certo. No, voi dovete pensare che questa è una cosa che è accattata, in solito momento, in esecuzione, perché non mi fai, e non mi fai, e non mi fai, e non mi fai, ma non mi fai, ma non mi fai, ma non mi fai. Questa è una cosa che è incertiva, perché non mi fai, ma 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 non mi fai. Perché è rosa. Scusate? Va bene, lasciamo una quinta sotto per fare pari fate, pari fate. La lascio, non la tocco perché non si sa mai. E ora una quarta soglia per fare le tritte. Pari fate, tritte. Pari fate, tritte. Pari fate, tritte. Pari fate, tritte. Fa meglio. Quindi... Con il mio orecchio, non è orecchio assoluto, ve lo ripeto, però l'ho allenato abbastanza, non avevo proprio la capacità di farlo un anno e mezzo fa e sono fiera almeno che sono arrivata a questo punto. E quindi, passando a questa cosa, vediamo... Ah, sì, no, volevo dire un'altra cosa. Abbiamo mezzo libro, ho detto, che è semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Ciò non vuol dire però che non ho la possibilità di andare in un altro modo, se parto dalla forza avanti. Perché ora diventa musicologico all'argomento, però ogni modo è un etos diverso. Quindi si può fare, ecco, invece di parlare di semitoni e toni, parliamo di etos. Il mixolidio ha un etos. Il dorico ha un altro etos musicale, come il friggio e come il litio. E questo lo possiamo capire suonando una melodia che sicuramente conoscono tutti, che è Twinkly Twinkly, tanto lo conoscete, no? Quindi, vediamo, partendo dalla seconda diventa un litio, che secondo me è il modo del brano. Un quinto. Messi non ne ha portato? Sì. Adesso sì. Che così la conosciamo? Se parte però da Messi diventa un dorico. Vediamo com'è l'eser dorico. Proprio un altro carattere. Se parte dalla prima diventa un mixolidio e un mixolidio diventa così il carattere. Proprio un'altra cosa. Ok. Dobbiamo aggiustare quel teleno. Non è per lui, quindi. Per lui va bene. Non è per lui. Non è per lui. Quindi, che dobbiamo fare suonare? Troviamo delle diverse tecniche, scegliendo un brano antico, vorrei seguire. Questo è un esercizio per fare pratica. Anche per me. Sembra facile. Allora, è una... Sì. Sono gli anonimi di Bellermann. Sei elementi strumentali libri che si trovano alla fine di una raccolta di trattati sulla musica greca pubblicata per la prima volta nel 1841 da Bellermann. Esercizi con scopo didattico e con uso sistematico di combinazioni. Sono strumentali perché non ci sta voce. Capiamo il tempo dai segni che stanno sopra, che sono i segni ritmici. I segni geometrici, diciamo, sarebbero i segni musicali, che ti dice l'altezza delle note. Le note, praticamente, loro. Invece sopra, quello che vedete, la linea dritta è una macra, quindi il tempo. È una macra di chronos, di due tempi. Il punto è la nota in levare. Per darvi qualche informazione sulla parasemantica, come si chiama in italiano? La... Come si conta? Il solfeggio? No, la parasemantica con il modo di leggere la musica. Come si chiama? La parasemantica si può dire. Occhio, in italiano non mi ricordo. Quindi, sotto vedete le note, sopra vedete i tempi e avanti, le note di oggi, il prossimo slide. Aspetta, aspetta, vado qui. Perché comunque per me è più facile leggere così. Aspetta, te l'ingannisco. E quindi io vi suono il numero 34, che vedete il tetracordo, le note di un tetracordo, con tutte le combinazioni possibili. Che sembra facile però ricordarli e farlo con diverse tecniche non è... non è così tanto facile come sembra. Quindi, vediamo cosa riconoscete da tutte le iconografie che abbiamo visto suonando questo esercizio. prima, velo suolo così, vi insercizio. Alla prossima 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 Stop Domicizio Alla prossima scusate c'era un'altra conferenza stamattina e ho dimenticato un caso sì esatto e anche l'altra parte la nera grazie tantissimo poi andiamo al prossimo brano perché non era solo strumentale la musica era anche è un ribattere si è una si può essere io non riesco a sentirlo essendo abituata anche a suonare cose molto complesse però effettivamente sì allora il suono cambia tra pletro e dita questo sicuro perché sembra che con il pletro diventa molto più metallico molto concentrato con le dita si diventa più arpa forse questo quando sono con il pletro e dita questa sinergia ecco la parola giusta questa sinergia può fare capire due strumenti diversi l'effetto è un po più polifonico non è polifonico in senso moderno chiaramente però sì c'è un botte risposta io lo vedo soprattutto quando suono cose vocali quando faccio l'irobie perché cerco sempre di di essere semplice di non andare a diventare molto virtuosa soprattutto col canto perché comunque si deve evidenziare il testo ma questo non vuol dire che non si deve perdere la lira quindi vedo una una sinergia la riuso la parola mi è piaciuta vuol dire sinfonia sinfonia per le lebrani no in questo caso lo vedo come un'altra voce ah ok tipo canta la mia voce e la lira è la seconda voce che può accompagnarmi senza parole che mi piace comunque questo punto di vista quindi questo è l'inno alla musa di Mesomete di Creta compositore dei poeti e compositore nella corte di Adriano e musa e Calliope d'Apolo sono due proemi sono due non è un pezzo sono due pezzi no questi prossimi uno a sinistra e uno a destra uno è alla musa e quello a fianco è Calliope e sono due proemi e sotto ci sta la parte della voce e sopra i segni della della musica vocale questa volta uno strumentale quindi abbiamo la musica della voce ma tutto quello che suona con la lira è fantasia ecco vediamo questo è un altro modo che lo dobbiamo facoltare diversamente è un altro modo che lo dobbiamo faccio scusami la mia nuova lira allora vedete le cose che un problema di uno ci chissà sono pano a tutti i piano sì sì dobbiamo fare una quinta scusa allora vediamo di accordare ora questa questa è accordata molto più in basso ok grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Ok, è un brano complesso, con la parte interna molto cromatica. Grazie a tutti. 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 No, io posso dire soltanto di che parla, se voglio. Si tratta di un'ode pitica, che è stata composta da Pindaro per una vittoria ottenuta da un'auleta, quindi un suonatore di aulos, ai giochi pitici del 400, qui è anche un'alerta di Dottor, che è stato un'euleta che ha già avuto un'auleta, che è un'auleta, che è un'auta particolare. perché l'unica ode pindarica in nostro possesso è dedicata ad una vittoria ottenuta in un campo musicale. Tutte le altre che abbiamo, che ci sono rimaste, sono relative a delle vittorie che concernono degli sport fisici. E quindi in questa ode si narra la storia di quello che è probabilmente il pezzo con cui questo Auletest ha vinto in questa gara. C'è un dibattito su perché si parla proprio di questo mito, che è un nomos dalle molte teste inventato da Atena che imita il lamento delle gorgoni sopravvissute dopo che Medusa è stata decapitata da Persio. Brandi, bellissima. Due parole. Non c'è musica, non c'è testa simile, però c'è metro. Sì, abbiamo un metro, una varietà di metri diciamo. Ci sta il dactilos anche, lo sapete meglio. C'è il metro dactilico in trimetri anche, quindi lungo, breve, breve, lungo, breve, breve, lungo, lungo, che diventa quindi in musica tre quarti o quattro quarti. Quindi pam, 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 si intromette un epitritos, un epitritos sia breve che lungo, quindi un lungo, breve, lungo che è un 5 ottavi o un epitritos lunghi diventa lungo, breve, lungo, lungo, lungo. Quindi su tre, che non è regolare, è regolare che si fa un saltino, quindi se... Anche se devo fare un saltino, perché così lo capisco. Un attimo, poi mi alzo, ok, quindi, ora lo levo perché sennò lo trovo dietro. No, no, andiamo l'avanti, vieni se vuoi. No, no. Come no, ma sempre io qua. Vieni, vieni, ora si. Allora, il mio dattimo, dai, lasciate il telefono, vado a stare qua. Quindi sarebbe a dire il metro, è regolare, perché è fantastico. Quindi il bacio, l'età di quello che si fa. Poi, invece, un po' quantificato, quindi davanti per il bacio, se vuoi entrare perché non sapete, non sapete. ok e poi ci sono fatti io voglio vedere faccio uno 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 allora la musica comunque bravo la musica unico che vi sentiamo allora è una musica che è stata banata di calma grandissima o quella e questa questa ci partiamo di nuova musica in vita è per mira al ross polo pocai e ballo quindi immaginate una marea cittadina magari cittadina tra poco abbiamo pagato più avvenuti persone che cantano e che ballano tutti i bambini che giudici si deve diamo un po' andiamo a vedere guardiamo questo grazie guardiamo 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 però proviamo guarda tutto nel fitto quindi andiamo facciamo uno piano Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 poi non posso dire niente di certo perché tutto quello che posso dire è un'ipotesi mia però questo uno o due mi fanno pensare che non è una cosa molto semplice poi ci sta la didattica comunque chi tende a non far diventare virtuoso però in Grecia le gare si fanno perché? per far vedere quanto siamo bravi chi è guione quindi una megalomania c'è comunque c'è anche nelle gare ci sono a un certo punto dei pezzi del repettorio se io vado a Delphi farò probabilmente il nomo stesicosco il nomo stesicosco quando la Woloski era probabilmente il nomo stesaretico anche quindi a un certo punto ci sono dei pezzi come oggi ai concorsi sono un concorsi per la forte fa cecoschi deve suonare il primo concerto di cecoschi che non è la cosa più facile assolutamente quindi diciamo che un minimo di paragone è per questo che ti conosciano sono arrivata nemmeno a poco a quello che si poteva fare ho l'impressione ma sei bravissima grazie 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 ok grazie abbiamo rinversato il nostro speaker grazie a tutti i partecipanti a tutti quelli che sono rimasti fino all'ultimo mi scuso per aver superato un pochino il tempo che ci eravamo dato di quanto ti sarei fatto i miei occhi al 7 ci sono i miei occhi fa bello grazie 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 io ho detto madre sì grazie 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 Grazie.